Gaglianico avvia il progetto Strade del Benessere per la creazione di percorsi ciclopedonali protetti ed è la giunta comunale del sindaco Paolo Maggio che ha approvato un primo studio di fattibilità per l'accesso ai fondi messi a disposizione del PNRR. Questo progetto, sottolinea il sindaco, ci consente di concretizzare una vera e propria rete ciclopedonale che abbraccia completamente il comune e lo rende più sicuro e più accogliente. L'intenzione dunque è quella di navigare con decisione verso questi nuovi scenari per poter migliorare la vivibilità di Gaglianico, ridurre il traffico veicolare e anche l'inquinamento. Ancora, sottolinea il sindaco Paolo Maggio, quando ci capita di visitare qualche cittadino italiano estera, Svizzera, Francia, Olanda, Danimarca e vediamo percorsi ciclopedonali funzionali, pensiamo subito a come potrebbe essere altrettanto bello e accogliente il nostro biellese. Ma ci si scontra, purtroppo, a volte con la dura realtà segnata da immobilismo e rassegnazione. La nostra idea, dunque, sottolinea ancora il sindaco Maggio, con questo progetto è quella di cambiare questo pensiero e diventare un esempio virtuoso per l'intero biellese. Un territorio straordinario che si merita livelli di vivibilità altissimi, in grado di competere anche a livello turistico con altre realtà italiane e straniere. Bisogna però crederci fortemente e proprio per questo progetto il paese di Gaglianico procede con la previsione di diversi collegamenti, primo fra tutti quello tra Via 20 Settembre e Via Piave, a cui seguiranno miglioramenti di tratti di strade già esistenti e di qualificazione di strade vicinali. Andiamo molto fieri di questa visione per il futuro del nostro paese, consapevoli di continuare nella direzione per noi giusta di Gaglianico, paese del buon vivere. Sicuramente un progetto che punterà a quell'eccellenza e migliorerà la qualità della vita a tutti i cittadini, anche attraverso proprio questo progetto. La speranza è che anche altri sindaci, magari dei paesi limitrovi, lo possano seguire.